Siamo qui alla Camera dei Deputati, come è quasi ormai consuetudine, facciamo un aggiornamento rispetto alla crisi politica che attanaglia l'Italia ormai da diverse settimane. Sono iniziate le consultazioni, il secondo giro di consultazioni è iniziato nella giornata di oggi, domani proseguirà e anche noi di Fratelli d'Italia saremo nuovamente ascoltati dal Presidente incaricato Mario Draghi. C'è stata sicuramente l'occasione per approfondire nel dibattito di questi giorni la posizione delle varie forze politiche e io sono convinto che possa essere utile dare delle spiegazioni in merito al quadro che si sta articolando e anche alla posizione di Fratelli d'Italia, espressa da Giorgia Meloni. Molti hanno fatto pressioni importanti, taluni le hanno fatte con modo e con stile, come dovrebbe essere logico fare, cercando di offrire suggerimenti o comunque dando la loro personale chiave di direttura. Mi riferisco a analisti, editorialisti, forze politiche, quelli che utilizzando un anglicismo vengono chiamati opinion makers. Altri lo hanno fatto in maniera sguaiata, quasi infastiditi dal fatto che Fratelli d'Italia, che è un pezzo del Parlamento italiano, possa svolgere il rilevante, direi insostituibile ruolo di opposizione. Molti pensano che la democrazia sia impersonificata particolarmente da un governo. La democrazia si compone anche di un'opposizione e laddove non ci fosse un'opposizione sarebbe un disastro, perché sarebbe una democrazia mutilata. Noi siamo contenti in questa fase, vedremo ovviamente che cosa ci dirà il Presidente incaricato nella giornata di domani, di poter rappresentare comunque un'opposizione anche perché sappiamo qual è la modalità utilizzata da Fratelli d'Italia per stare all'opposizione. Certamente non è quella distruttiva che è stata interpretata dalla sinistra negli anni in cui, purtroppo pochi anni, il centrodestra ha avuto l'onore di guidare l'Italia. È stata davvero una sinistra impresentabile, vogliamo chiamarla così. È una sinistra che ha utilizzato gruppettari per manifestazioni di protesta violente, scioperi, interi settori dello Stato che si sono artificiosamente ribellati. In parte certa magistratura, come ci rammenta il libro Confessione di Sallusti e Palamara. In parte tutto il circuito della scuola e dell'università che hanno fatto un vero e proprio putiferio, ma insomma non ci possiamo e non ci vogliamo dilungare rispetto alle esperienze passate. Solo per marcare la differenza e dire che noi intendiamo fare la nostra opposizione interpretata, intesa come vigilanza nella maniera più elegante possibile, ma soprattutto più costruttiva possibile. Quindi chi pensa, ecco, i fascinorosi di Fratelli d'Italia che cominceranno a zannare alla gola Mario Draghi, pensa male. Anzi, io vorrei rammentare che da Renzi in poi Fratelli d'Italia ha avuto sempre un atteggiamento responsabile. Ci siamo addirittura definiti, lo ricorderete, ma vale la pena di sottolinearlo, opposizione patriottica proprio per distinguere le modalità con cui si fa opposizione. Noi non sosteniamo il governo, non lo abbiamo fatto con Conte uno, non lo abbiamo fatto con Conte due, non lo abbiamo fatto con Gentiloni, non lo abbiamo fatto con Renzi, ma quando sono state portate in aula delle proposte sensate che andavano nella direzione della salvaguardia e della tutela del bene comune, le abbiamo sostenute senza chiedere niente in cambio. Solitamente sapete la politica è un po' il mercato delle vacche, ci si mette d'accordo, quando sentite facciamo un tavolo cominciate a essere preoccupati, cominciate a essere preoccupati, perché significa che intorno a quel tavolo si negoziano interessi. Noi quando abbiamo votato a favore dei provvedimenti in cui credevamo e che ritenevamo avrebbero appunto prodotto il bene dell'Italia, le abbiamo sostenute, punto, non abbiamo chiesto indietro nulla. Anche nelle recenti manovre di scostamento di bilancio, nell'approvazione della legge di bilancio dello Stato, sono fioccate decine di miliardi, ne abbiamo spesi finora 150 di miliardi, quasi tutti in scostamento di bilancio, quindi in deficit. Ci è stato offerto di utilizzare per le nostre necessità, mi riferisco ovviamente a necessità di tipo politico per rappresentare delle categorie, dei soldi, milioni di euro, centinaia di milioni di euro dei cittadini italiani, noi abbiamo detto che non ci serviva nulla, avevamo solo il desiderio di servire l'Italia, servire il nostro popolo, fare il nostro dovere. Questa è la cornice nella quale si configura l'opposizione di Fratelli d'Italia. Ci dispiace non poter condividere questa modalità con gli altri partiti del centro-destra, lo dico io prima che qualcuno non possa presentarmi delle domande come starà già accadendo da parte di chi ci ascolta. Così come ho risposto a giornalisti, a televisioni poco fa in piazza Montecitorio, noi abbiamo tenuto la nostra linea in maniera lineare, coerente, chiedo scusa per il bisticcio di parole. Quindi insomma ci fa un po' specie, dover rispondere di scelte fatte dagli altri partiti di centro-destra. Il centro-destra rimarrà comunque unito, governa 15 regioni insieme, affronterà le prossime scadenze elettorali nuovamente coeso perché ha una medesima visione del mondo e ha una stessa progettualità, uno stesso programma elettorale, una stessa visione della società italiana. Quindi non ci non ci divideremo. Diciamo che tutti, fino a poche ore fa, noi di Fratelli d'Italia, la Lega Nord di Salvini, la compagine rappresentata da Forza Italia e da Berlusconi, abbiamo chiesto le elezioni anticipate. E qui bisogna comunque smascherare un gioco perché altrimenti non ci si capisce perché qualcuno si fa un po' condizionare da quello che ascolta e finisce per replicarlo anche magari involontariamente. Abbiamo ascoltato il Capo dello Stato dire in buona sostanza che non era possibile fare le elezioni in piena pandemia. Noi siamo un po' perplessi per vari motivi, fermo restando il totale rispetto nei confronti del Capo dello Stato che si deve soprattutto da parte nostra che abbiamo una consolidata cultura dello Stato, abbiamo un forte senso delle istituzioni e quindi non intendiamo assolutamente lanciare improperi verso il Quirinale. Però su nove minuti di conferenza stampa forse averne dedicati sei per dimostrare che non si poteva andare al voto da parte del Presidente della Repubblica è stato eccessivo. Ricordo che si è votato recentemente in Portogallo, ricordo che si sta per votare in Olanda per elezioni politiche legate alle dimissioni del Governo, anche se erano elezioni politiche diciamo così ordinarie. Si voterà sempre in Europa, in Bulgaria, nella Repubblica cieca, in Catalogna, si voterà in Germania nel mese di settembre. Abbiamo votato noi in Italia alle regionali in cinque regioni sempre nel mese di settembre. Dovremo votare per le amministrative che saranno chiamati alle urne 20 milioni di italiani a Roma, Milano, Bologna, Torino, Napoli in tanti altri capiluoco di provincia. Le elezioni sono una cosa importante quanto la scuola. Tanto per capirci. Facciamo giustamente, noi lo rivendichiamo, ogni sforzo per mandare i ragazzi a scuola ancorché in presenza della pandemia e penso che la democrazia sia almeno importante quanto la scuola e ci si debba fare ogni sforzo per rendere compatibile il diritto alla sicurezza, la salvaguardia della salute dei cittadini italiani con il loro diritto di scegliersi i Parlamenti e indirettamente attraverso i capi di governo. Voi potreste obiettare? Beh, ma c'è una situazione del tutto eccezionale e quindi forse è utile che ci sia un governo Draghi, il governatore della Banca Centrale Europea, già governatore della Banca d'Italia con molteplici ruoli rappresentati proprio nel campo degli istituti di credito ben capace di rappresentare gli interessi dei banchieri a livello nazionale e a livello internazionale. Noi infatti non eccepiamo sulla competenza e sulla professionalità nel suo campo di Mario Draghi. Però ci corre l'obbligo di rammentare a noi stessi che sta cominciando a diventare una preoccupante consuetudine quella di saltare a pi e pari le elezioni in Italia e siccome siamo abbastanza secchioni ci andiamo a documentare e documentandoci abbiamo scoperto che in nessun'altra nazione democratica in Occidente è mai accaduto che bypassando i cittadini e quindi il voto popolare è un sistema di regole quello che passa attraverso la denominazione di democrazia. Mai è accaduto negli altri paesi europei e occidentali attrazione democratica che qualcuno, qualche presunta autorità illuminata, decidesse per conto del popolo chi dovesse fare il capo del governo. E quindi questa modalità ci lascia perplessi non solo e non tanto perché si colloca attraverso Mario Draghi nella crisi sanitaria ed economica, ci lascia perplessi perché l'abbiamo già conosciuto altre volte questa modalità. Sta diventando una consuetudine. Allora siamo una democrazia sospesa? L'Italia è una democrazia sospesa? E chi è che l'ha sospesa? E perché è stata sospesa? Facciamoci queste domande. La prima volta che accadde un episodio simile, governava Berlusconi, ci fu una crisi politica e fu scelto dal mazzo un ministro del governo Berlusconi, Lamberto Dini, il quale poi si vede che ha un vizietto, una consuetudine, non so che cosa, pur pure lui provenendo dalla Banca d'Italia ed essendo un tecnico, diede vita a un partito rinnovamento italiano che si presentò con risultati più o meno simili a quelli che oggi potrebbe racimolare Matteo Renzi. Il 4%, il 3, il 2,5%, non ricordo con precisione, comunque un partito che è poi evaporato come tutti i partiti biodegradabili che nascono in alcune stagioni politiche per poi tramontare dopo aver fatto gli interessi di qualcuno. È stata un'eccezione? No, non è stata un'eccezione. Un altro tipico e inquietante episodio è quello che tutti rammentiamo di Mario Monti, il cui ingresso a capo del governo fu facilitato dal Presidente Emerito Giorgio Napolitano, sì sì, proprio Giorgio Napolitano, quello che era a favore dell'invasione attraverso i carrammati sovietici dei paesi dell'est europeo, già, tra virgolette, definito riformista nel Partito Comunista Italiano. Lui, insieme a chi? Alla cancelliera Angela Merkel, sopravvissuta a quella stagione e almeno sopravvissuto Sarkozy Presidente della Repubblica Francese. E quindi che accadde? Che forse quella scelta fu presa al di fuori dei confini nazionali, al discapito dell'indipendenza, dell'autonomia, dell'autorevolezza dell'Italia? Ritengo di sé. Non abbiamo mai capito fino in fondo che cosa accadde, ma sicuramente accadde che artificiosamente fu fatto salire alle stelle lo spread. Non vi sto qui a raccontare che cosa sia, perché è una definizione abbastanza complessa, ma abbiamo a che fare con la cosiddetta speculazione finanziaria. Le banche tedesche decisero di lanciare per aria i titoli di Stato italiani. E così lo spread raggiunse livelli che indussero il sole 24 ore, per chi lo rammenta, a fare un bel titolo. Fate presto! Se sa perché questo fate presto oggi non compaia su nessun giornale, visto che stiamo perdendo tempo da ormai non settimane, perché sono quasi due mesi che stiamo impantanati tra i bisticci di Italia Viva, il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, i Ciampolillo e i Nencini della situazione. Ma nessuno titola. Fate presto! Anzi, facciamo addirittura un secondo giro di consultazioni. Chissà se sarà l'ultimo, se la giostra proseguirà. Ma non è stato solo Mario Monti il problema. Lasciamo perdere, abbiamo già parlato negli anni trascorsi, le nefandezze a cui siamo stati sottoposti da quello che poi, guarda un po' il caso, come accadde per Lambertodini, fu assoldato da professore universitario all'interno del Senato della Repubblica e fu nominato senatore a vita. Poi abbiamo avuto Giuseppe Conte, il primo avvocato del popolo, non la controfigura che sarebbe poi il Conte II. Pure lui, mai eletto da nessuno. Quindi stiamo a quattro presidenti del Consiglio, che sono stati scelti in qualche maniera bypassando le regole della democrazia. Si potrebbe immaginare così, insomma, i maliziosi potrebbero dire, vabbè ma tu parli di democrazia solo perché in questo momento ti fa comodo. La democrazia, ragazzi, è democrazia. Uno o aderisce al modello democratico o non aderisce. Se qualcuno lo vuole contestare o addirittura contrastare, devo uscire allo scoperto perché non se ne può più di vedere in Italia da Lambertodini passando per Mario Monti e arrivando al Conte II, chi perde le elezioni governare e chi vince le elezioni stare all'opposizione. Sarebbe democrazia questa? La domanda è retorica. Non è democrazia. In nessuna parte del mondo dove c'è la democrazia chi perde le elezioni governa e chi le vince sta all'opposizione. Ma adesso arriviamo addirittura al paradosso che Fratelli d'Italia viene presa d'assalto. Lo spettacolo vergognoso a cui è stata sottoposta la nostra leader Giorgia Meloni la dice lunga. Una sorta di crocifissione perché ci sarebbe proibito in buona sostanza persino andare all'opposizione. Qui il problema non è essere colpevolizzati perché ci starebbe, sarebbe più logico, si sta andando al governo. Noi siamo colpevolizzati perché vogliamo stare fuori dai giochi. Pazzesco. Adducendo delle motivazioni che io penso che anche un bambino potrebbe comprendere. Perché non c'è niente di sano se si governa prima Lega Nord e Movimento 5 Stelle, poi esce dalla porta girevole la Lega Nord ed entra il Partito Democratico. Guarda caso il Partito Democratico insieme agli estremisti ma anche il Partito Democratico è l'estrema sinistra perché la non estrema sinistra è Matteo Renzi che poi si scende dal Partito Democratico, fa un suo partito della viva e governa pure lui. La giostra prosegue perché adesso siamo arrivati all'apoteosi di un governo che si prenderà forma. Ancora Mario Draghi decida di fare lo statista nelle prossime ore e vi dico poi che cosa auspichiamo in via subordinata, noi di Fratelli d'Italia. Però vedere che si aggiungono a questo caravan serraglio altri partiti, Lega Nord l'abbiamo citata, Forza Italia, anche penso che confermerà il suo appoggio. Il Movimento 5 Stelle che diciamo così fa accadere il pregiudizio rispetto alla presenza della Lega Nord e così come la Lega Nord fa accadere la discriminante verso il Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico che improvvisamente scopre che i sovranisti, i leghisti sono malleabili e presentabili e quindi ci si può governare insieme, insomma una roba che obiettivamente non è giustificabile neanche dalla pandemia, sinceramente. Perché? Perché siete così severi? Ma noi non siamo severi, noi sappiamo che cos'è la politica e vorremmo salvaguardarne il disegno nobile che l'ha sempre motivata nel corso dei secoli. la politica prevede che ci si ispiri a dei valori, a una concezione del mondo, che si creda in alcune cose e poi quando si ha a che fare con lo Stato e si deve amministrare, le questioni che ti animano prendano una forma, divengano progetti. Non credo che stia qui a svelare chissà quale mistero, dicendo che i progetti del Partito Democratico sono antitetici rispetto a quelli della Lega e quelli del Movimento 5 Stelle sono antitetici rispetto a quelli di Forza Italia, che quando arriveranno sul tavolo del pur bravissimo Mario Draghi, tutti i dossier, da domani, non tra tre anni, chissà quanto tempo, da domani, tutti i principali dossier sulla politica fiscale, cioè tanto per intenderci sulle tasse, sulla patrimoniale, sul reddito di cittadinanza, sulle politiche della sicurezza, sull'immigrazione, sulla formazione, sull'economia verde, su tutta questa roba qui. Ci sono distanze siderali e che cosa faranno questi signori? Si troveranno insieme per cosa? Che cos'è che potrà tenerli uniti? E' questo il quesito irrinunciabile che va posto tra chi crede nella politica vera, non chi si siede solo per avere qualche spazio, in gergo dagli anni che furono, quando io avevo i calzoni corti, si chiamavano poltrone, che è un termine che rende bene l'idea anche se è un po' così abusato, perché solo quello può essere il massimo comun denominatore di gente così diversa che appartiene a partiti che hanno visioni dell'Italia e della società così diverse, così distanti. Che cosa abbiamo suggerito noi? Voi ci avete ascoltato, non è stata una cantilena stucchevole. Noi abbiamo ritenuto, lo dicevo poco fa, che le elezioni politiche anticipate fossero l'unico punto di caduta possibile, che fossero perfettamente compatibili, visto che prendiamo sempre insegnamenti e talvolta ordini dall'Europa, se si può votare in tutta Europa e anche negli Stati Uniti d'America non si capisce perché non si possa votare in Italia. Pensateci, pensiamoci, riflettiamo su questo. Però Giorgia Meloni, che è sempre andata dritta all'obiettivo, nella sua gigantesca autenticità e schiettezza, che cosa ha detto? Ha detto alla fine, in base a una domanda dopo la conferenza stampa che gli è stata presentata, beh, se il governo Draghi è un governo a termine e ci porta alle elezioni, ci potrebbe anche stare, ma ci deve portare alle elezioni. Io ricordo, a chi ci ascolta, così facciamo anche un po' di storia mentre parliamo di politica, che c'è stato già un Presidente del Consiglio, che era governatore della Banca d'Italia. Nel 1993 si chiamava Carlo Azzelio Ciampi. Che cosa fece? Assunse l'incarico, su richiesta del Presidente della Repubblica, e lo mantenne per pochi mesi, giusto il tempo di arrivare alle elezioni anticipate. Ma perché non hai citato prima questo esempio tra le eccezioni? Perché è un'eccezione, diciamo così, cogente. All'epoca c'era l'emergenza d'Angentopoli, l'Italia aveva perso la faccia devastata, dilaniata dal malcostume e dalla corruzione, e quindi l'intervento di una persona esterna, accompagnando però la democrazia italiana alla celebrazione delle elezioni anticipate, ci poteva stare. Tant'è che in quella fase, pensate, l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che era parlamentare, propinò, proponendola e facendola approvare, una nuova legge elettorale che va proprio sotto la denominazione, il nomignolo di Mattarellum. Composto quel quadro, si andò a votare, vennero sciolte le camere, perché così succede in democrazia, e si andò a votare. Perché Draghi domani non fa un colpo di teatro e non si dimostra un vero statista, dicendo, come gli ha chiesto Giorgia, metto in sicurezza il recovery plan, consegnandolo alla scadenza del 30 aprile a Bruxelles, come ci chiede l'Unione Europea, perfeziono e potenzio il piano di vaccinazione per fuoriuscire dalla crisi sanitaria e mettere in sicurezza la salute degli italiani e, prima del semestre bianco, sapete cos'è il semestre bianco, da settembre noi entriamo nella fase in cui non si può più votare perché deve essere rinnovato il Presidente della Repubblica, che scade nel 2022. Forse sarebbe opportuno, proprio per dare maggiore forza al Presidente della Repubblica, che il successore di Mattarella possa essere scelto dal nuovo Parlamento, quello per intenderci con il taglio dei parlamentari che è stato approvato, con il voto favorevole di Fratelli d'Italia, pochi mesi fa. Perché questo Parlamento, paradossalmente, è parzialmente legittimo da quel momento in poi, perché ha una superfetazione di centinaia di parlamentari, dovrebbe essere ridotto da 1.600 e quindi un nuovo Parlamento di 600 parlamentari tra Camera e Senato dovrebbe scegliere il nuovo Presidente della Repubblica. Questa è la scadenza sensata, sensata. Quindi se il Presidente incaricato dovesse avere un orizzonte temporale ristretto sarebbe comprensibile perché comunque si andrebbe a elezioni anticipate, fermo restando tutte le perplessità che abbiamo manifestato, che ho ribatito in questa diretta rispetto alla democrazia. E non ci si può mica giocare, cari amici, non ci si può giocare. Perché quando il giudizio sulle persone che devono governarci è un giudizio soggettivo, si fuoriesce dal perimetro delle regole che la democrazia si è data per dare giudizi oggettivi. I giudizi sui dittatori, sui tiranni, sui monarchi sono giudizi soggettivi. A una persona può piacere come governa un dittatore, a un'altra persona può non piacere. A una persona può stare antipatico, un dittatore, un tiranno, un monarca e un'altra persona può stare antipatico. Dobbiamo uscire fuori da questa logica perché ci stiamo tutti incartando in questi giorni, esprimendo giudizi sulla persona Draghi. Il mio giudizio è un giudizio positivo sulla persona Draghi e sulla sua competenza, ci mancherebbe altro. Ma noi non possiamo cedere al giudizio soggettivo perché la democrazia non è soggettiva, è un metodo universale che afferma che è il popolo che decide. Già noi in Italia, rispetto ad altre nazioni europee, siamo penalizzati perché i cittadini italiani, diversamente da altri, non hanno la possibilità, la Costituzione glielo impedisce, di eleggere direttamente il Presidente della Repubblica, le massime cariche dello Stato. Non ce l'abbiamo questo potere e questa facoltà. Noi la possiamo fare solo intermediati dal Parlamento, ma almeno sia fatta salva la democrazia parlamentare. Perché se ci viene precluso il diritto di stabilire e decidere e votare il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio, ci viene pure preclusa la possibilità di farlo indirettamente attraverso il Parlamento, perché arrivano le eminenti autorità da chissà dove, allora la nostra democrazia non è sospesa, è finita. Ci dobbiamo guardare in faccia ed essere seri. Occhio al giudizio soggettivo, occhio a salvaguardare il perimetro delle regole che si rappresenta attraverso la democrazia, occhio quando ci vengono proposte delle soluzioni eccezionali che siano sempre soluzioni a tempo determinato e che siano solo vincolate alla celebrazione della scadenza elettorale laddove il popolo si riappropria del proprio diritto e stabilisce dagli essere per ora rappresentato, speriamo presto, attraverso una riforma della Costituzione anche governato. Mi fa specie di coloro i quali voltandosi dall'altra parte in queste ore facciano degli attacchi sguaiati, soprattutto persone che vengono così dalla mia stessa storia politica, che non hanno avuto la forza di resistere ad alcune intemperie della politica nazionale, mi riferisco ad alcuni ex alleanza nazionale che hanno sottoscritto un specie di documento e altri intellettuali, editorialisti e presunti tali che io non voglio quel popolizzare perché il mondo è bello perché vario, quindi il tema non è il loro diritto a esprimere delle critiche verso di noi, intanto non c'è alcun diritto ad attaccare una persona e ad attaccarla dal punto di vista degli affetti personali come è stato il caso di un pessimo articolo di un autorevolissimo quotidiano italiano La Stampa, sono arrivate le scuse da parte del direttore Massimo Giannini e da parte dell'autore dell'articolo che offendeva Giorgia Meloni, quindi questo diritto di offesa mirata alla persona a mio giudizio non esiste, non deve essere salvaguardato e rappresentato, si possono fare dei ragionamenti di carattere politico, quelli ci mancherebbe altro, si possono esprimere dei giudizi di merito sulle varie questioni che accadono, ma non ci si può accanire come sta accadendo, noi siamo molto sereni nei confronti di Fratelli d'Italia perché c'è davvero un accanimento che è stucchevole, come stucchevole è questo unanimismo intorno alla figura di Mario Draghi, io ripeto, certamente non sarà Fratelli d'Italia ad attaccare Mario Draghi e persone, ma l'unanimismo intorno a queste condizioni che io vi ho descritto è semplicemente ridicolo, dunque noi non temiamo affatto il rischio isolamento, perché non ci sentiamo isolati, non ci sentiamo isolati, sono gli altri che si sono isolati, che stanno dentro al castello d'Avorio, nel palazzo a brigare, che trovano sempre una soluzione che possa in buona sostanza bypassare il giorno delle elezioni, noi siamo in compagnia del popolo italiano altro che soli, soli de che se direbbe dalle mie parti, non siamo soli, oltre la metà del popolo italiano per alcuni sondaggisti avrebbe ritenuto che la maturazione della crisi politica dovesse avere come punto di caduta le elezioni politiche, probabilmente il Presidente della Repubblica lo aveva ben chiaro questo numero, se ha dedicato la bellezza di sei minuti e mezzo su nove della sua conferenza stampa a dire che non si poteva votare in Italia e poi vedremo se si voterà o meno, voglio dire come finisce con le elezioni amministrative già calendarizzate per maggio e per giugno e con le elezioni regionali in Calabria già annunciate per il mese di aprile, forse l'intenzione è quella di far fare a questi cittadini da cavie nei confronti del coronavirus, va, non ci sentiamo affatto isolati, ed è l'ultima battuta che faccio, in Europa, ma dove sta un partito conservatore? Rammento a me stesso che Giorgio Ameloni, oltre a essere leader di Fratelli d'Italia, è il segretario del partito conservatore europeo a cui aderiscono anche alcuni partiti conservatori extraeuropei, i repubblicani americani tra questi, i canadesi, gli australiani, in nessuna parte del mondo i conservatori governano con i socialdemocratici o con i postcomunisti, chi è che è isolato? Forse anche nel contesto internazionale sono isolati coloro i quali alla italica maniera cercano di fare pasticci, mischiando le cose in maniera indigesta, dimostrando di non essere all'altezza della situazione e di non avere il senso dello Stato, che noi invece intendiamo conservare. I conservatori in nessuna parte del mondo occidentale, delle democrazie occidentali governano con la sinistra e quindi noi stiamo dalla parte giusta. Chi intende, viceversa, avventurarsi in appuntamenti di questo genere e fare dei governi con il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, la Boldrini, e cioè la Boldrini è entrata nel Partito Democratico, l'EU e quindi la sinistra che sta alla sinistra della sinistra del PD, sta facendo un esperimento che noi non ci sentiamo assolutamente di avallare, soprattutto perché si può affrontare e si deve affrontare a testa alta anche una crisi dilaniante, importante come quella che stiamo attraversando. La soluzione non è il pastrocchio, la soluzione è la linearità e la trasparenza, la soluzione è dare la responsabilità ai cittadini italiani di scegliere tra le varie ricette che devono costruire la prospettiva di una società italiana capace di sconfiggere la pandemia, di puntare sulla produttività, di aumentare la ricchezza, di affrontare un debito pubblico che era già straordinario prima della pandemia e che è destinato a sorvolare quote immaginifiche e per fare queste azioni c'è bisogno di una politica omogenea, di partiti che abbiano le stesse idee, perché altrimenti questa agonia è destinata a ripresentarsi, a trascinarsi per chissà quanto tempo ancora. Fate presto, bisogna fare presto a tornare alla normalità. L'Italia ha diritto a una democrazia normale. Facciamo presto, spazziamo via le forze politiche che stanno facendo questo inciucio e riconquistiamo con il consenso popolare il diritto alle elezioni, il diritto a decidere, il diritto a scegliere sulle varie materie che ho citato da che parte andare. Questa e solo questa è democrazia. Arrivederci.